Partono dalla Cattedrale di Bari le celebrazioni per il 103esimo anniversario della nascita di Moro, un calendario di oltre 150 eventi previsti fino a maggio 2020 che vedranno coinvolti enti pubblici, associazioni, studiosi e istituzioni. In primo piano la riscoperta del pensiero dello statista di Magli è barbaramente ucciso nel 1978 dalle Brigate Rosse, ma soprattutto la scoperta della verità sul rapimento e l'eliminazione di uno dei simboli della democrazia cristiana. Un esempio di onestà intellettuale, politica e umana condensata nella frase la persona prima di tutto pronunciata nel 1941 a Bari durante la prima lezione all'università. Qui la messa celebrata da Monsignor Franco Lanzolla è promossa dalle associazioni degli ex consiglieri regionali e parlamentari di Puglia oltre che dalla federazione dei centri studi Aldomoro e Renato Dell'Andro. Il tutto coordinato dalla presidenza del Consiglio regionale della Puglia che ha in agenda ben quattro iniziative dedicate a Moro. Sono due anni che ha lanciato dei progetti destinati soprattutto agli studenti e ai docenti, oltre che ai comuni e alle biblioteche. L'obiettivo è riattualizzare il pensiero di Aldomoro e contribuire alla ricerca della verità. Moro che diceva toglietemi due milioni di voti ma non un atomo di verità. Nella politica di oggi questa frase potrebbe essere una bestemmia. Grazie. 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 Grazie.